Sì, ci siamo a 360 gradi, stiamo andando a Fernandina Beach a vedere Loris Batacchi Un Loris Batacchi, guardate che bellissimo il pick up Super Duty, bello, bello, un giorno ce l'ho avrò un chino Guardate, guardate, davanti, Walmart, always low price, always Allora, questo Loris Batacchi, cos'è sta storia? Non si sa, si vedrà, è un segreto Poi, altre cose Niente, guardatevi la strada Guardatevi un po' di strada, quanto è bello Si può sentire un po' di song Ah, song per a vento, non c'è l'imagine Ha, ha, ha Sono le robe, è scatica, t'ai avuto Ma le song, sono tutte, metti l'arara Non c'era la musica, non c'era la musica. let himu metti un predicatore, una cosa aga io in te YOU MOLENOR LA TINA adesso vedremo magari passiamo da fernandina bici oggi una bella giornata oggi è il 25 di febbraio una fretta giornata di fine febbraio si ieri mi è arrivato un messaggio che diceva preparati perché domani a jameson mi sarà freddo allora il programma di oggi vabbè andare lì andare a fare la spesa e le solite cose forse stasera a palestra oh ma forse eh poi domani il programma è garage sale e poi devo fare le review prodotti cose niente di che prossima settimana invece bici un sacco di cose reviews video 360 che si spollicheranno ho notato però se fare questi video 360 è un po' una rottura quando devi scaricare il filmato ieri ci ho perso quasi un'ora solo per scaricarlo perché per scaricare lo devi assolutamente passare tramite iphone e quindi devi avere l'iphone libero per ricevere il file che quello di ieri il corso di oggi di ieri era 2 giga e venti non è per niente comodo non è per niente comodo quella che avevo prima la kodak era uno scasso anche quello ma perlomeno funzionava tramite il computer la memoria non ti scade mai poi non è che si sconsuma la batteria invece ieri la batteria quasi consumata insomma io adesso beh io mi gioco sta telecamera per 30 giorni e poi la rimando indietro perché io voglio prendere l'altra la kodak nuova che devo uscire bianca comunque si conviene prendere un'altra con un altro sistema è un po' scarso c'è da dire che questa è bella si vede già molto più dettagliato dall'altra questa fa tutto il 360 l'altra c'era solo il sopra e solo il sotto e si vedeva anche più male quindi questa è un po' meglio allora questo quanto ci vediamo dopo a Fernandina Beach ciao ciao amici a 360 siamo a San Fernandina Beach praticamente c'è la stazione cina qui là a destra è un cittadina andiamo a fare un giro allora San Fernandina è o anche chiamata Amelia Island adesso andiamo a ritrovare qua c'è una stazione cina questo famosissimo capitano andiamo a vedere la stazione cina che si vede la stazione cina мотрale Florida first of the key keep a go for the railroad Fukuda railroad the road would be corporate toh dh sh dh dh chính davy ule ov ok spriggo l ac t er island Andiamo a vedere lì 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 Amici a 360 Ha uno stile anche, se vogliamo, un po' francese con l'influenza di New Orleans e Louisiana Guarda, c'è uno dei Dier Dinos All right, so now in our restaurant and business division, again we'll call up our top five We just had a note that if parents could start rounding up their kids, they would get rid of the blue dot coms out here So top five at number six in order we have CBC National Bank, Half Time Sports Bar, Hot Mamas, Quality Health And a shocking turn of events, Mosquito Authority Come on, get up up here All right, so we've got two teams that need to practice their princess wave All right, so we've got more mosquitoes coming up This is the first time Here I plan yourself for a surprise Which day is today? February All right, let's look at the Christmas screen All right, let's look at the Christmas screen How are we going? This is the first time We've got two people Let's go Let's go Hello Hello Allora, dobbiamo decorare il nostro albero di Natale, vediamo un po', il marinaretto bellino. Io voglio questo, guarda. Tu vuoi l'ornamento del cane? Guarda quello, c'è il gnollino. Quanto costa questa bellezza? 21 dollari, 90 euro. Guarda il pesce. Allora usciamo, scappiamo. Scappiamo. Guarda il pesce. Guarda il pesce. Spastando il pesce. Guarda il pesce. Natale, a febbraio. Io voglio un... Prima di arrivare all'ultimo mondo, Sflaver. Questa cittadina è molto famosa per robe artistiche, tipo quadri. Io prenderei un... Gesù. Le tigre, robe tiratesche. beh... Perchè? ... ... ... ... ... un bel gelato, eccolo fantastic food allora entriamo a fare questa altra casa questa è la Fairbank Zone, Wilton, 1985, da John Nathan Fairbank, Lawyer, Historia, Editor, Confident Army, Founder of Florida State, Fairbank House stesso genere, tutti i legni Fairbank tre del mezzo ma è bello quanto a compor a lì carina anche quella quella azzurra sì quella azzurra perché vedi ad esempio una stradina così è bella perché comunque sei chiusa ma quella è troppo sparata quando è proprio uno stradone largo a quattro corsi eh 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 guarda quale sei ripatrio questo è fin di paura bellino il museo dell'antichità anzi no, del negozio dell'antichità e già delle auto guarda che belle auto già iniziano a porre guarda i papatini facciamo un papatino andiamo lì iniziano a del gelato, guarda. Il colo è tutto bellissimo. Fai vedere il tuo gelato. Mi ha una schifezza, tutto disordinato. Guarda questo gelo di chiuso. Per la modica cifra di 7 dollari l'uno, perché va a peso, eh. Forse il tuo piaceva più bene. Questo. Sto splendido a cornice. Prefido una sette piedi. Ma a me mi ha pregato perché io volevo la granita. Entri dentro, non si conosce nulla. Prova, è l'arancia. No, è l'arancia. No, è l'arancia me la metto. Me la metto. No, è l'arancia. Senti, c'è l'ancia. Quante calorie? No, è troppo. No, è la coppetta, la più piccola. No, è la più piccola. Stantica, no? Si, non mi ha abbassuto. No, non c'è l'ancia. No, non c'è l'ancia. Ma questa è una coppetta, perché con la gigante era un vaffone. Piccolo il cuore. Poi premi e viene pure un puntale di no, ma anche se premi poco. Più scende più poco. Vedete. Il cuocchettone può stare l'olio. Allora, io ho preso il prano, il coccolato, io ho fatto un frasso quindi nel negozio non sa che fanno tutto a casa ci sono Sotto abbiamo un frano, guardate amici, c'è un pittino. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sin www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il schieno è il tuo confusore, è tuo o no? Perché, notate, anche il schieno è il mio coltello nella coppa, no? Lui è il gigante che si va alla bocca perché non è il caverso. Allora, siamo arrivati al frango. Tu finisci, io sono andato a farlo. La ponte. Non so quale, ma c'è un uomo. 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 Non male. Allora ci vediamo dopo. Sono le mosquitos. Sto a camminare un po' qui per vedere una casa che è in vendita. Ah è questa qua forse. 303? Che a vederla nella fronte era stra bella. Allora abbiamo detto. Siccome è qui vicino andiamoci a piedi. Quanto costava? 380. 380. 380. Country. Store. Più avanti. 227. E' quella lì gialla. Guarda che bella. Solo che è troppo sulla strada. E' perché Vittoria mi ha sparato. Che bellina. Guarda che bella. Lì il fantasma che si spreca. ti busta dalla finestra. Guarda c'è una bambina affacciata. Si. Adesso non c'è più. Si è morta la tenda un po'. E lì sotto avrà la cantina. Sicuramente. E lì. I mosti. Pieno di schede. Vediamo quant'è che costa. C'è una lucertola. Lucertola vai via. Sì. Non ce n'è niente. Cougar a 300 o qualcosa. Si. Sì. 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 Allora amici andiamo di qua. Guardiamola da davanti. Guarda che bella. Guarda che bella. Guarda lì. Il nostro. Fantasino. Il bus. C'è lei. Il bus dietro di voi. È questa qui. Che adesso non è in live. Però sta guidando. È un predicatore. Donna. Gesù. È un po' per donne. Single. Che vogliono diventare pre. Un predicatore forse. Ma state giù. Ma state giù. A posto. Ciao. Bellata. Giù. Qui c'è. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.